Sì, sopra sì, però io... Sì, sopra sì, però... Sì, sopra sì, sopra sì, però... Sì, sopra sì, sopra... Sì, sopra sì, sopra sì, però... Sì, sopra sì, sopra sì, sopra... Sì, sopra sì, sopra... Sì, sopra sì, sopra... Sì, sopra sì, sopra... Sì, sopra... Sì, sopra... Asia, stai qua per favore... Sì, sopra... Sì, sopra... Sì, sopra... Vai, vai... Vai, vai... Sì, sopra... 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 Sì... Vai, vai... Sì, sopra... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Vai, vai... Vai, Giuseppe! Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Arbitro... Arbitro, qua c'è un intruso, arbitro! Vieni la doing! Dove hai stare... Che devi fare? U Monarda vado! Spire... Alma parte... 油... Aspettiti! Siete l' 부 trabalho! U website a pallo... È.... Ehi! Vedi il tuo piano piano Ma che più risolveremo Chiudila poi la macchina Attenta alle macchine Quel numero 10 là No, no, no Se li fa Se li fa Vai, vai, vai Vittor Vai Vittor vai 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 bravo Nick vai ciccio vai 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 Grazie. 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 Sta l'ambulanza là. Ti prego. Ora vieni qua, vedi che l'ambulanza è arrivata. Grazie. 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 Vai, vai. Stanto andando in Alisabeth. Mamma. Gian Piero. No, no, no. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Buona. Buona, vai, Ricoo. Vai, Ricoo. Scato la Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. vai a tutti. Grazie a tutti. 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 dobbiamo cambiare. a tutti. 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 a tutti.